con la Monini Marconi impegnata nel penultimo turno della pool promozione in trasferta sul campo della Versa avanti 2-0 la formazione Umbra di Provedi è stata rimontata e battuta al tie-break 15-9 dalla formazione campana la Monini guadagna un punto di vantaggio su Bergamo sconfitta in trasferta e dunque i punti salgono da 1 a 2 chiaro che con il successo la Monini avrebbe blindato il terzo posto terzo posto a questo punto da conquistare nell'ultima sfida della stagione di pool promozione in casa che la Monini affronterà con la formazione della Emmala Villas Siena che appunto ieri ha battuto Bergamo in maniera netta e ha rinviato tutti i giochi all'ultima giornata della pool promozione i primi piloti a poter usufruire del restyling dell'autodromo Borzacchini di Maggione saranno i centauri